Appuntamento a giovedì. Dopo il pari col Bologna, Paolo Sousa ha ordinato il rompete le righe ed ha fissato la ripresa per il giorno 23 di marzo. La squadra ha lavorato tanto durante queste ultime settimane ed aveva avuto poco tempo per recuperare dopo la trasferta di Milano. Un calendario alquanto cervellotico, infatti, aveva fissato per sabato 18 il match col Bologna che è arrivato a Salerno avendo potuto godere di ben due giorni in più di riposo. Alla ripresa la Sanitana giocherà il 2 aprile alla Spezia e poi ospiterà l'Inter molto probabilmente venerdì 7. Dieci calciatori impegnati con le nazionali, oltre a Cernigoi che era stato convocato dalla Slovenia ma infortunato, e Mazzocchi da valutare dopo il problema alla spalla occorso di contro il Bologna. Sousa avrà un gruppo distretto di calciatori tra cui Fazio e Trostecong che potranno spingere a fondo per essere pronti alla ripresa. L'argentino è tornato in campo già sabato scorso nei minuti finali ed insieme al nigeriano e a potrà dare un contributo di esperienza nella fase calda del campionato, cui la Seretana arriva con 8 punti di margine sul Verona. Con Sousa in panchina e Grata hanno raddoppiato il vantaggio sugli sgalligieri che si erano portati a soli 4 punti dopo la vittoria a uno scottro diretto del 13 febbraio scorso che costò l'esonero a Nicola. Nonostante il vantaggio, Sousa sa che bisognerà ancora lavorare tanto per compiere altri peggioramenti e gettare le basi anche per il futuro. Con i cambi sia con Piona sia con l'entrata di Toni e questo è il mio primo grosso complimento a quelli che hanno entrati, ancora una volta perché hanno portato molta qualità, molta intensità ancora una volta alla squadra, ha fatto cambiare a migliore la squadra verso la vittoria e anche quelli che sono stati in panchina, sui gol, tutta a celebrare, a chiedere i cambi più veloci perché hanno la voglia di vincere. Questa è una mentalità che veramente mi sta piacendo vedere. Sulla partita, il rimanere sulla partita, soprattutto la seconda parte, noi con l'entrata di Toni e con Piona veramente abbiamo spinto, abbiamo aumentato l'intensità, la velocità sulla pressione, la velocità anche davanti, abbiamo creato soprattutto il corredore laterale perché era dove lo spazio era più grande, siamo riusciti a combinare bene, arrivare verso l'ultimo terzo, con opportunità credo che oggi abbiamo fatto più o meno 14 tiri, abbiamo incrementato anche questo contro una squadra fortissima per me, una squadra che ha messo in molta difficoltà la Lazio nella partita precedente, che per me io l'ammiro tanto, come paleggio, come pressione, per questo devo essere molto soddisfatto perché è una strada che stiamo camminando insieme e la vedo bene, peccato perché la potremmo vincere ancora una volta, però credo che siamo sulla strada giusta. Noi dobbiamo migliorare e questo adesso è quello che stiamo lavorando e quello che ci manca ancora per avere più controllo dei momenti con palone, cioè sapere quando le squadre hanno più capacità, i nostri avversari hanno più capacità di paleggio che ci fanno abbassare, sapere difendere questo momento, prendere anche fiato senza regalare, come l'abbiamo fatto praticamente ancora una volta, però non dobbiamo avere più tempo il palone per poter sì fare con che gli avversari si abbassano e poter essere più forti, perché io credo che con le qualità che abbiamo davanti, quando saremo una squadra che ha più capacità di rimanere più tempo a metà campo avversario, nell'ultimo terzo, cioè i giocatori che abbiamo davanti possano fare veramente la differenza verso la salvezza, perché è su questo che noi ci puntiamo e ci concentriamo.